L'Unione Europea avvisa l'Italia, i fondi per gli investimenti sul mezzogiorno potrebbero essere tagliati. Il motivo? Gli investimenti fatti finora sono stati sotto le aspettative e non si sono rispettati gli impegni presi. Anche di questo si è parlato alla plenaria del Comitato Europeo delle Regioni. Secondo quanto stabilito nel bilancio dell'Unione Europea dei prossimi anni, a subire i tagli sarebbero i fondi per la politica di coesione e quelli per la politica agricola comune, risorse importanti per lo sviluppo delle Regioni, soprattutto per quelle meridionali che arrancano dietro il polo industriale del Paese. Sono le principali risorse su cui oggi le Regioni in generale, ma soprattutto quelle che devono ancora colmare il divario tra questo e il mezzogiorno d'Italia, noi appunto rischiamo questo taglio e questi fondi sono i fondi principali di cui oggi godiamo per lo sviluppo. Sotto accusa lo Stato italiano che non può dar battaglia per salvare questi fondi in quanto messo in mora da Bruxelles proprio perché non riesce a investire per tempo le risorse europee. Lo Stato italiano deve tornare ad investire seriamente nel sud Italia e soprattutto per colmare il divario di infrastrutture che rende il sud meno competitivo. E anche l'Abruzzo rischia di perdere i fondi per lo sviluppo agricolo regionale. Stanno per scadere infatti i termini ultimi per reinvestire il denaro. Rischiamo il disimpegno di molti fondi entro la fine dell'anno se non riusciremo a sbloccare procedure rimaste ferme per troppo tempo e che stanno creando difficoltà a tutta la filiera produttiva legata all'agricoltura, alla zootecnia, al vitivinicolo. Altra questione che potrebbe penalizzare il mezzogiorno è quella dell'autonomia che così come proposta dalla Lega in Parlamento potrebbe favorire solo le regioni del settentrione proprio a discapito di quelle del sud così da rendere ancor più problematica per il paese l'annosa questione meridionale. Se poi l'autonomia si fa, si deve fare senza penalizzare nessuno.